Musica Sono Angelica Centozza, 17enne di Altamura e Domenico Angelastro, 19enne di Gravina in Puglio, i due ragazzi morti nell'incidente stradale avvenuto martedì sera sulla strada statale 96 tra Altamura e Gravina, nelle vicinanze dell'ospedale della Murgia. I due giovani fidanzati viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che si è scontrata frontalmente con un SUV che ha poi preso fuoco. Per loro non c'è stato nulla da fare, sono morti carbonizzati.